Sì, innanzitutto diciamo che finalmente oggi inizia l'arbitrato presso il Tribunale internazionale dell'AIA. Era l'unica cosa giusta che il nostro Paese dovesse fare. Ci abbiamo messo quattro anni per farlo, nonostante il Parlamento l'avesse votato già all'unanimità due anni fa. Ora confidiamo che venga presa la decisione che Salvatore Girone merita, che Massimiliano Latorre merita, perché quattro anni di detezione ingiusta senza un capo di imputazione in un Paese, l'India, che non è competente a decidere sul loro caso, sono davvero tanti, troppi, inaccettabili. E confidiamo che il Tribunale internazionale possa dare ragione al nostro Paese.